Buon anno a tutti voi cari telespettatori, prima rassegna stampa di questo 2021 che comincia però come di consueto, come da 15 anni a questa parte, con il santo del giorno e poi il tempo. I santi sono Santi Basilio, Magno e Gregorio Nazianzeno. Il sole sorgerà alle 7.41 e tramonterà alle 16.32. Adesso andiamo a vedere il tempo. Prima pagina di trebimeteo.com, weekend con vortice freddo sull'Italia, temporali, grandi, in evento e neve, maltempo invernale a più riprese fino oltre l'Epifania. Questa è l'Italia vista appunto con la grafica, questa bassa vortice di bassa pressione che sta interessando, interesserà nelle prossime ore in Italia. Vediamo subito il dettaglio sul sito della protezione civile delle Marche che per oggi prevede precipitazioni durante la giornata, brevi piovaschi, la neve intorno, la neve sulle montagne, sugli appennini, anche sui sibillini vedete in fondo, occasionali precipitazioni invece altrove, le temperature sono in lieve aumento, ma ci sono dei venti moderati lungo la costa, ref e con raffiche di vento forte. Andiamo a vedere domani, domenica 3 gennaio, ancora possibilità di brevi isolati piovaschi nel corso della giornata, più probabili nelle zone appenniniche e ancora continua il tempo variabile con pioggia almeno per la prima parte della prossima settimana. Allora andiamo subito adesso a vedere i giornali, giornali che tornano dunque in edicola dopo la pausa del primo di gennaio. A centro pagina, questo è il Carlino di Pesero, la nostra trincea, titolo della fotonotizia, virus e ricoveri sanitari in prima linea a Capodanno, poi allarme e contagi, le marche tremano, i dati restano preoccupanti, il ritorno in zona gialla dopo l'Ebbe Fana è sempre meno scontato. Cassonetti a fuoco e feste oltre i limiti, due le denunce, il bilancio della festa di San Silvestro, a Fano botte ai medici che li soccorrono fratelli nei guai. E poi all'ospedale di Fano parlano francese, il primo nato del 2021 e l'ultimo del 2020. La strategia invece per le vaccinazioni in tre mosse, ecco il piano della regione, poi i progetti per la città di Pesero, Viale Triestre, sta per sparire il rudere dell'ex colonia. E poi una storia, ne avremo due questa mattina in Rassegna Stampa, la nonnina di 109 anni, il Covid lo sistemo io, dice, e poi lo sport con Visefano, caccia e rinforzi per la salvezza, i biancorossi su un difessore over e su caccia, i Granata su Lupoli e Alessandro Marchi, poi il DS, parliamo di VL, Cioppi, Robinson è una garanzia, l'americano pronto per la sfida con Milano, magari non è al top, ma si è allenato e dunque ci sarà. Questo è il carrino di Ancona invece, i figli della rinascita, centro pagina, fotonotizia per Elisa Di Francisca che aspetta Brando, così batteremo il virus. Mentre a Senigallia, la prima nata della provincia nel 2021, si chiama Stella. Poi altre tre parti in giornata, Adele è la prima anconetana, Aiesi il vagito di Maria, il papà dice frutto dell'amore per la vita. Zona rossa anche qui, nelle Marche, nella Calza della Befana, dati del contagio preoccupanti, il ritorno alla giallo dal 7 di gennaio qui nelle Marche non è scontato. Acquaroli dice stiamo molto attenti. Macerata, più forte del virus, ecco l'altra storia. Qui siamo a parlare di una donna che ha 107 anni, Maria Mocchi, con il sindaco di Loro Piceno, Robertino Paoloni. Vedremo due belle storie. Bomba carta, poi fa danni in municipio, pollenza, esplosione a mezzanotte, frantumi, le finestre del comune. Il Corriere Adriatico invece, questa è l'edizione di Pesero. A centro pagina, il calendario da programmare, parliamo di vaccini, il rebus del richiamo, mentre Ubriaco aggredisce i sanitari, San Silvestro di tensione per il personale del pronto soccorso del 118 di Fano, scatta l'arresto, mentre Usca super lavoro e chiamate raddoppiate, i medici, l'Asur deve tutelare chi è stato assalito. E poi la nomina, la nomina di furia. La regione Marche, nella seduta del 31 dicembre, nominato a Interim fino al 31 gennaio come direttore dell'ARS, l'Agenzia regionale per la sanità, la dirigente del Servizio Salute, Lucia Di Furia. Prende il posto di Rodolfo Pasquini, fedelissimo di Ceriscioli, che a fine 2020 si è congedato con quota 100, chiudendo la sua carriera di dirigente nella sanità pubblica. E poi ci sono le notizie in breve, sempre dalla prima del Corriere, patto sugli affitti per poter salvare i negozi e attività a Pesero, mentre a Fermignano troppi accessi nei botti bruciano in serie i cassonetti. E poi ancora la tradizione di Capodanno a Pesero, al primo tuffo non si rinuncia, acqua gelata per gli irriducibili, ma erano pochi rispetto agli anni scorsi, anche perché comunque, lo ricordiamo, eravamo e siamo anche oggi in zona rossa, come tutto il resto d'Italia, d'altra parte. Questa è la fotografia che più di qualunque altra cosa spiega in modo eloquente come è andato l'ultimo dell'anno, il Capodanno di fuoco, ma anche di follia. Perché follia? Perché sei cassonetti sono stati dati alle fiamme, sono esplosi anche con dei petardi, petardi sulle auto, contro le case, tantissime feste postate nei social, con molte persone a brindare, fuochi artificiali per ore, multati due trentenni di gradare Gabice Cattolica. Queste sono le fotografie che, alcune foto postate su Instagram, da gruppi di giovani insieme, che si sono redunati per il Capodanno, a fare due conti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, immagino che non siano tutti conviventi di famiglia, e di conseguenza, insomma, erano assolutamente fuori legge. Sanzionati per 400 euro, due ragazzi di gradare Gabice, trovate a Cattolica, quindi fuori regione. Corriere Adriatico, Capodanno inizia in salita, titolo dell'articolo all'interno delle pagine, in due giorni 1.400 positivi, tre province sotto esame, sono quelle di Ancona, Pesero e Macerata, che sono dunque osservate speciali. Tutto questo dipende anche dalla maggiore mobilità, che c'è stata inevitabilmente a metà dicembre, a metà dicembre abbiamo un po' fatto così, come ci pareva, e questi sono i risultati. Oltre 6.800 tamponi processati, portano numeri record, e l'incidenza purtroppo sta crescendo. A Capodanno divampa l'incendio in casa, il pessimo inizio del 2021 per una famiglia nei pressi di Fossombrone, la colpa della canna fumaria di una stufa a pellet. Queste sono le fotografie, due immagini dell'incendio durante le operazioni di soccorso, vedete i vigili del fuoco sul tetto, con la scala antincendio. Mentre altre fotografie che riguardano la città di Pesero, e il benvenuto al 2021 con le forze dell'ordine impegnate, patuglie di polizia, carabinieri, eccetera, impegnate appunto a sorvegliare le città, ma come vedete sotto i giovani soprattutto non hanno resistito e sono scesi in strada a lanciare petardi, a brindare e quant'altro. Mentre, come di consueto, ogni inizio anno si fa il bilancio dei nuovi nati e di quelli che sono nati invece l'ultimo giorno dell'anno. Ostetricia si brinda solo a champagne, questo per dire che i nuovi nati sono due nati da mamme francesi, due mamme francesi, protagoniste nel reparto di Marche Nord. L'ultimo parto del 2020 al Santa Croce di Fano, dove nascono obbligatoriamente i bambini, i cui genitori si affidano all'azienda sanitaria Marche Nord, quindi non si nasce a Pesaro perché il punto nascite è stato individuato, causa Covid, appunto solo nel reparto di Fano, ha visto la nascita di Marianne, nome e simbolo della Francia, alle 22.28 del 31 dicembre. E poi il primo nato invece è sempre figlio di una mamma francese, Giulia, residente a Pesaro, il bambino si chiama Lucas, ed è nato alle 6.57 del 1 gennaio e quindi a tutti ovviamente gli auguri. All'ospedale di Urbino invece è nata Viola, si chiama Viola, pesa 3,5 kg, ed ha percorso, precorso, scusate, i tempi. Mentre andiamo a Senigallia, a Senigallia quattro vagiti dopo mezzanotte, la prima è Stella, ha il primato in provincia, è nata 51 minuti dopo l'arrivo del primo anno, del nuovo anno, poi è stata la volta di Kevin, figlio di una coppia di Falconara, l'ultimo invece poi Alessandro, qui invece siamo al Carlo Urbani di Iesi, alle 4.18, è venuta al mondo Maria, che è tra le braccia della mamma. Schizza il contagio, ora le marche tremano, questo è il titolo sulla pagina 8 del resto del Carlino, percentuali di positivi sui tamponi fatti oltre il 35%, in aumento anche i ricoveri, l'RT è a 0,99, quindi siamo ancora lì, se sale sopra l'1, quindi manca un niente, un amen, addio alla zona gialla, report poco confortante, la provincia di Ancona è quella messa peggio. Poi Maxi Test, la prima sarà Fabriano, poi tocca Senigallia-Falconara, questi sono i prossimi appuntamenti, Falconara dal 20 al 22 gennaio, e anzi, aspetta per dare, diamo le date giuste, allora dal 20 al 22 gennaio sarà la volta di Falconara al Palabadiali, e praticamente subito dopo, dal 24 al 26 gennaio, tre giorni a Osimo, sempre al palazzetto dello sport. Allora, per quanto riguarda i vaccini, pochi maledetti e subito, il piano è pronto, i vaccini no, la regione deve fare i conti, dopo i 9 mila già arrivati, se ne attendono altre tanti lunedì, poi sarà buio totale, notte fonda, il dubbio è andare avanti con le prime dosi, ottenere le scorte per i richiami, e già, perché se poi non ci sono le scorte per i richiami, che succede? Insomma, c'è l'incognita, tant'è che c'è un allarme lanciato anche dalla Pfizer, proprio questa mattina, che diceva sui giornali, lanciava i giornali, cioè, invitava anche altre aziende a produrre questi vaccini, perché dicono, da soli noi non ce la facciamo, la Biontech in particolare, da soli non riusciamo a garantire le scorte per tutti quei paesi, e qui parliamo non di un paese soltanto, del mondo intero, quindi, insomma, questa è un po' la situazione. Sempre sui giornali di questa mattina, come stanno i vaccinati, questo un po' ce lo domandiamo un po' tutti, domenica scorsa il vaccino dei, anche a Pesaro si sono fatti vaccinare i primi sanitari, come stanno? Questa è la domanda, la domanda che ricorre, loro rispondono benissimo, avanti tutta, parlano i primari e i medici che hanno ricevuto la prima dose di vaccino, e adesso qualcuno dice, non vedo l'ora di avere il richiamo della seconda dose, non abbiate paura, adesso non vedo l'ora, vabbè, è un po' una forzatura, ma comunque, insomma, questo è. Il Morbon non rallenta però la corsa, Marche Nord solo quattro posti, ancora liberi, in rianimazione, e speriamo che restino tali. Mentre sulla pagina di Fano del Carlino, il quartiere Digimarra, con il suo comitato, ha inviato un dossier completo sulla nuova contestatissima strada che attraverserà appunto le campagne per sbucare poi sulla strada alle 16. Questo dossier completo è stato inviato ad Ancona e l'invito è quello di bloccare l'iter amministrativo per bloccare, evitare lo scempio. Mentre il preside del Nolfi, il dirigente Samuele Giombi, dice sulla provincia, dice, spero mantenga gli impegni presi. Bene la nuova scuola, il campus nel 2023, per tutti sarebbe un traguardo molto importante. Poi la cronaca da Fano, corriere adriatico, chiama il 118, poi aggredisce i sanitari. Arrestato nella notte di San Silvestro, giovane di origine sudamericana, si è scagliato contro una dottoressa. Suo fratello si era sentito male. Poi vagava pericolosamente in autostrada, un cane in fuga per i botti, salvato da Asur e dai militari. ero presente, mi è capitato di vedere, ho girato anche qualche immagine, all'uscita di Lucrezia di Cartoceto. Qui siamo di giorno, quindi botte si riferiscono, non quelle proprio dell'ultimo dell'anno, la sera, ma comunque qualcuno che li ha sparati prima. E c'era questo cane, lo vedete in questa immagine, che a un certo punto vagava per la superstrada. sono riusciti poi a raggiungerlo, a farlo mettere da una parte e a recuperarlo. E alla fine è andata bene. Anziano ustionato, sempre dalla pagina di Fano del Corriere, portato in eleambulanza Cesena, l'ottantenne ferito in un rogo che aveva acceso fuori casa. È successo a Cartoceto delle fiamme che gli hanno poi intaccato i vestiti nel primo pomeriggio dell'ultimo giorno dell'anno. Non è riuscito poi a controllare più le fiamme, quest'ottantenne, dopo che aveva piccato il fuoco e quindi poi è stato portato a Cesena con ustioni di terzo grado su oltre il 35% del corpo. Sempre da Fano, tanti soli e poveri, agli anziani serve aiuto. Il grido di allarme di Giovanni 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 della Cisla, bisogna organizzare gruppi di sostegno e alleggerire il carico fiscale, ad esempio per chi è rimasto isolato a casa a causa del virus, del Covid, all'interno delle varie strutture. E questo è uno dei tanti interventi urgenti che chiede appunto la Cisla. Poi da Aset, 200 mila euro per chi non riesce a pagare le bollette, il fondo sociale istituito fin dal 2017 per gli indigenti, soldi ripartiti tra i comuni soci di Aset e in base ovviamente agli abitanti. Poi Gandia e Fano, che gemellaggio alla fine è uscito, è nato un libro. San Paterniano, in aiuto dei nuovi poveri, siamo sempre sulle pagine di Fano, questa volta torniamo sul Corriere Adriatico, ora fino a 120 pasti da sporto al giorno. La mensa confeziona anche pacchi viveri. La Presidente Cecconi dice molte spese in più, garantito però il cambio dei vestiti. il vero problema è la solitudine creata dall'isolamento. E poi Piazza Vuota, palco pieno, spettacolo in teatro con la Proloco in diretta, con l'orchestra sinfonica Rossini e gli attori del San Costanzo Show. Club Mattei, ancora da Fano, la luce accesa nell'anno del buio, il bilancio annuale del gruppo fanese impegnato nella protezione civile, dalla spesa portata a casa ai moduli montati al Santa Croce. il Presidente Saverio Livi dice i nostri volontari impiegati anche per compiti di tipo socio-sanitario. Poi la CISL che critica con l'assessorato al welfare lo SPID per le domande sulle case popolari, grave errore, Giovanelli dice per questo si sono create le code davanti agli uffici postali, era meglio una convenzione. Poi sempre da Fano, in piazza a 20 settembre, guardate la fotografia, il botto di fine anno, un camion dell'Aset abbatte un pilastro, il mezzo ha piegato la colonna di arenaria e sollevato i sanpietrini che lo circondavano. Andiamo avanti con la rassegna, questa è la fotografia classica di cui ormai ci siamo fatti l'abitudine, però fa specie vedere soltanto quattro persone, di solito c'è un bel gruppo nutrito di persone, quasi un centinaio ogni anno, per festeggiare con i tuffi il nuovo anno, in realtà questa volta soltanto in pochi, perché la manifestazione, quella tradizionale, era stata annullata, ma individualmente qualcuno comunque ha voluto esserci, pochi reduci per il tuffo di inizio anno, però insomma alla fine qualcuno non ha voluto mancare a questo appuntamento. Poi grazie dottore, invece andiamo a Pergola, hai salvato nostra mamma, il racconto dei figli di una pensionata, un'ulcera perforata sarebbe diventata letale, un'attacca ha avvitato però il peggio, si chiama Edisa, Stefanelli, ha 84 anni, aveva forti dolori al torace e all'addome, il medico Francesco Leonetti è lui che ha capito l'indispensabilità dell'intervento che poi è andato bene appunto. Falò di fine anno, un ottantenne resta gravemente ostionato, l'abbiamo appena visto, da cartoceto, l'uomo bruciava vecchi oggetti nel cortile quando le fiamme lo hanno assalito, soccorso, è stato poi portato in elieambulanza a Cesena, al Bufalini di Cesena. Andiamo sul, restiamo qui, in fondo di taglio basso, bagni franco, altri vandalismi, siamo a Marotta, terzo episodio in una settimana, la rabbia del titolare, hanno imbrattato di tutto con uno spray, dovremo riverniciare, è stata fatta ovviamente la denuncia, questo è il divertimento che i giovani, insomma, così, che evidentemente hanno annoiati, non hanno niente da fare. Allora, adesso due pagine, due storie molto belle, vi invito a rimanere con noi, ad ascoltarle, la prima, parliamo di due centenari, la prima, andiamo ad Apecchio, cioè è stata scritta da Apecchio, anche se poi in realtà lei, questa donna di 109 anni, abita a Città di Castello, l'articolo di Amedeo Pisciolini, dunque a 109 anni, il titolo, ma il Covid lo sistemo io, l'aria buona di Montenerone, la freschezza del mare Adriatico sono impagabili, parliamo di nonna Lisa, 109 anni, che abita a Città di Castello, ma ha un legame forte con la nostra provincia, in particolare appunto con Apecchio, pensate che ha la passione da oltre 50 anni di allevare canarini, gli uccellini, i canarini, ne ha 300, gialli e bianchi, e partecipa anche ad esposizioni, assieme ai nipoti, Gualtiero e Natascia, insomma, ha preso l'influenza spagnola, il tifo a 19 anni, ha attraversato la seconda guerra mondiale e all'età di 46 anni anche l'influenza asiatica, ma ha superato tutto grazie all'amore per la famiglia, la collezione di canarini appunto e la fede cattolica. Sentite che cosa dice questa signora, la vediamo ancora meglio qui nella fotografia qua sotto. Amedeo Pisciolini chiede, ma lei ha paure del Covid? E lei risponde, no, il bastone, a parte gli scherzi bisogna proteggerli e lei proteggersi e lei come fa? Risponde, stando a casa non faccio entrare nessuno, se qualcuno mi viene a trovare lo saluto dal balcone, mi raccomando mettete le mascherine. Lei ha vissuto altre pandemie e lei risponde, sì, purtroppo, ma io ho sempre pregato il Signore, lui ascolta le nostre preghiere e i problemi se ne vanno. L'altra storia che voglio raccontarvi la prendiamo dalla pagina di Macerata del resto del Carlino, un'altra centenaria marchigiana, Maria, a 107 anni che ha sconfitto il Covid, il segreto prendere la vita così come viene. Da quando ha 14 anni questa signora vive a loro piceno, tutti la ricordano come la cuoca della materna, cucinato per intere generazioni, compreso il sindaco Robertino Paoloni e allora dice lei che non si prende nessun merito Maria Mocchi dice non si prende nessun merito sulla longevità ovviamente, sul fatto che ha 107 anni e dice è una cosa naturale che non dipende da lei, dà speranza però a tutta la casa di riposo. Maria è stata positiva per circa un mese e mezzo ma senza sintomi al di là della mezza giornata di febbre. Ammette di essere stata fortunata e di essere stata fino adesso fortunata perché non ha avuto malattie gravi. Di sicuro è tra le donne più longeve della regione Marche ma non ha paura di morire. Sentite che cosa dice a proposito della morte quando sarà ora di tornare a casa quella eterna sarò pronta ho vissuto fino alla fine ho fatto quello che potevo certo di alcune cose mi sono pentita altre avrei potute farle meglio ma me ne andrei in pace la vita va comunque accolta e accettata bisogna prenderla per come viene adeguandosi ai cambiamenti altrimenti quando manca la terra sotto i piedi si vive male i valori veri come il rispetto l'amore non hanno tempo e li auguro a tutti per questo nuovo anno Maria dall'alto della sua saggezza è molto concreta il 2021 dice non va caricato di troppe aspettative ma bisogna restare con i piedi per terra guardando comunque avanti lei è nata nel giorno di Maria Santissima Madre di Dio quindi il primo di gennaio ed è anche molto devota vedete quando vi dico che chi ha la fede ha una marcia in più ecco la marcia in più allora adesso le altre notizie invece per le quali invece spesso ci danniamo l'Imu le tasse i mutui per la prima casa all'ultima curva il governo proroga per tutto il 2021 le agevolazioni per il cratere del sisma quindi parliamo per le zone che sono interessate dal terremoto qui nelle Marche due emendamenti in commissione bilancio rimediano alla gaffa delle scorse settimane dunque è importante per esempio per quanto riguarda l'Imu la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa ed esenzione del reddito degli immobili quindi l'Imu che sono inagibili ai fini IRPEF ai fini della determinazione del reddito quindi è importante la notizia per chi ci segue dalle zone terremotate per salvare i negozi torniamo a Pesaro patto per gli affari sgravi e canoni light leggeri secondo i dati della Camera di Commercio di Pesaro Urbino la proiezione è la perdita di oltre 7 mila imprese nelle Marche con un ricambio bassissimo le nuove attività nate a Pesaro Urbino fanno registrare un meno 23,4 nel 2020 rispetto all'anno precedente non c'è quindi il ricambio il turnover il piccolo commercio è allo stremo dice Davide Ipaso il segretario comunale della Confcommercio e le attività sono in forte difficoltà alcune hanno già chiuso altre invece lo faranno a fine gennaio e avremo dunque un quadro più chiaro questa dunque è la situazione del commercio a Urbino distrutti dalle fiamme siamo a Fermignano tre cassonetti marciapiede devastato a Capodanno il sindaco di Fermignano Feduzzi dice che ha avvisato marche multiservizi i residenti invece sono preoccupati le fiamme causate da forze dai petardi mentre su Sant'Angelo Invado parla il legale di Meta qui parliamo dell'omicidio di Ismaele Lulli di Sant'Angelo Invado Igli difenderà Ambera non lo so dice l'avvocato Salvatore Asole che è illegale appunto di Igli Meta non posso dire se il mio assistito difenderà Ambera lo stesso quindi ha un obbligo di testimoniare essendo la sua sentenza passata in giudicato una cosa è certa che lo stesso ribadirà la sua verità senza nulla omettere essendo parecchi fatti sorretti da prove documentali ciclismo estremo andiamo a Fossombrone un coro di no i residenti ostaggi della cittadella fioccano le segnalazioni paura ad ogni passaggio usano le strade come pista da gradinata a percorso biker estremo il passo è semplice ma non piace ai residenti che si trovano a fare i conti con i passaggi non segnalati dei ciclisti Ferrovia Valmetauro non arretra sul ciclabile l'associazione chiede a Baldelli di restare fedele al mandato andiamo ancora avanti con la nostra rassegna Valle del Cesano da San Costanzo fate i tamponi di massa adesso tocca solo a noi screening al bocciodromo dall'8 al 13 di gennaio il sindaco di San Costanzo Sorcinelli dice ringrazio Barbieri poi sotto Guccini del 2020 salvo solo lo stare con mia moglie Senigallia vandali e petardi shock a San Silvestro cassonetti in fiamma vicino ai garage danneggiato l'impianto elettrico di un condominio a Montignano invece arrivano i vigili del fuoco e poi sotto teppisti a Barbara l'ira del sindaco malata e povera in ritardo con le bollette lasciata al freddo la notte di Capodanno è una storia che arriva da Castelleone di Suasa una malata oncologica al freddo e senza la possibilità di cucinarsi un pasto caldo nei giorni scorsi è stata disattivata anche l'utenza del gas e poi occupa una casa ruba l'elettricità a Montemarciano il marocchino è stato arrestato e questa era l'ultima notizia della nostra rassegna stampa prima rassegna stampa del 2021 noi ci salutiamo qui oggi è sabato quindi in questi giorni vi stiamo facendo vedere i fatti del 2020 tutto quello che è successo in questo 2020 ve lo riproporremo anche questa sera e quindi insomma vi do appuntamento alle 20 e 30 e vi ricordo che l'informazione torna lunedì mattina con la rassegna stampa alle 7 e poi il telegiornale alle 20 e 30 ancora da parte di tutta la redazione di Fano TV a tutti voi l'augurio di un sereno 2021 arrivederci a tutti Grazie a tutti.